Ciao a tutti, sono Graziana Peh, oggi sono a Viareggio al trail escape di The North Face per correre in mezzo alla natura con tutti gli appassionati di trail running come me. Se anche voi siete appassionati di sport odor e di trail running e vi state preparando alle prossime gare sapete quanto è importante l'allenamento e gli esercizi specifici. L'allenamento funzionale si basa su una serie di esercizi specifici proprio per migliorare le prestazioni, la resistenza e il potenziamento muscolare per affrontare le gare di trail running. The North Face ha gli appassionati, mette dalla possibilità di allenarsi in compagnia guidati da trail in esperti con una serie di appuntamenti in tutta Italia. Il prossimo appuntamento sarà il 25 marzo a Roma con una sessione di training presso Cisalfa Sport. Se siete in zona non mancate!